Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Le protagoniste del caso di oggi sono le sorelle Gonzales Valenzuela. Si chiamano Maria Carmen, Maria Delfina, Maria De Jesus e Maria Luisa. Nascono nel piccolo villaggio di San Francisco del Rincon, a Guanajuato, in totale povertà. E crescono in una famiglia altamente disfunzionale. La madre, Bernardina, è una cattolica estremamente devota. Prega tantissimo e cerca di instillare la stessa condotta nelle sue figlie. Il padre delle ragazze, Isidro, è un uomo violento. Questa aggressività è alimentata dall'alcol, di cui l'uomo fa largamente uso. Lavora come giudice concordato, il che significa che di notte gira per il villaggio a cavallo per proteggere la città dal crimine e dalla violenza. La posizione coperta da Isidro, tra l'altro, gli permette di godere di poteri autorevoli, di cui abusa quotidianamente. Crescendo le sorelle si rendono conto che hanno passato tutta la vita a soffrire, emotivamente e psicologicamente. Quando le giovani figlie si truccano e indossano abiti a suo parere ose, e quindi non di suo gradimento, Isidro le rinchiude nel carcere cittadino per dare loro una lezione. Altre volte costringe le sue figlie ad assistere alle punizioni dei detenuti, inclusa la loro esecuzione. Ogni volta che i genitori pensano che le sorelle abbiano infranto le regole o, peggio, disonorato la famiglia, le ragazze ricevono percoste molto forti dal padre e severe punizioni dalla madre. Come è ovvio pensare, le continue vessazioni e le apparenti ingiustizie hanno un impatto non indifferente sulle quattro ragazze. Verso la metà degli anni 30, Carmen, Delfina e Maria iniziano a lavorare in una fabbrica di filatura e tessitura. Ma c'è un problema. Il lavoro è faticoso e la paga è minima. Le tre sorelle sognano una vita migliore e in poco tempo iniziano a cercare un nuovo modo per guadagnarsi da vivere. La più grande delle sorelle è Carmen. In quanto sorella maggiore decide di essere lei la prima a cercare opportunità lavorative anche al di fuori degli ambienti che solitamente frequenta. Comincia così ad avventurarsi nei bassi fondi del villaggio, una zona che abbonda di bar e case chiuse. Al cui interno si creano sempre più giri di prostituzione e criminalità. Quando Carmen è ancora giovane e desiderosa di sfuggire al controllo del padre, incontra un uomo di 50 anni. La ragazza è convinta che lui possa salvarla dalla sua squallida esistenza. Ma non è così. L'uomo in pratica la trasforma nella sua concubina. Quindi Carmen passa da una figura maschile che la tiene sotto controllo, ossia suo padre, ad un'altra, ossia il suo compagno. Poco dopo Carmen rimane incinta e quando il compagno lo scopre, abbandona sia lei che il bambino appena nato. Quando Isidro, il padre di Carmen, viene a sapere dell'accaduto, prende una decisione. Carmen deve essere punita per il suo disonore. La rinchiude così nel carcere cittadino, sia per dare una lezione a Carmen, che per dimostrare alle altre figlie cosa sarebbe accaduto loro se avessero disobbedito o disonorato la famiglia. Poche ore dopo aver confinato Carmen nella stanza, Isidro riceve dal presidente municipale l'ordine di arrestare un allevatore locale. Con l'aiuto di due agenti, trova la persona indicata, un uomo turbolento che si vanta delle leggi che ha infranto. Al momento del confronto scoppia una collutazione e l'uomo cerca di scappare. Nel tentativo di fermarlo, Isidro gli spara e lo uccide. Per l'anno successivo, l'uomo rimane latitante, nascondendosi in vari ranch intorno a Gialisco, in Messico. Dimenticandosi di Carmen, che rimane chiusa in quella cella per ben 14 mesi. Quando il padre, dopo quindi più di un anno, si degna di farsi rivedere, avvisa la sua famiglia che ora ha troppi nemici a cui far fronte. È quindi necessario che si trasferiscano. Si spostano dunque a El Salto, a Gialisco, in Messico. Isidro inizia a lavorare come mulattiere, cambiando nome per non essere rintracciato. Più le sorelle Gonzales Valenzuela crescono, più iniziano a sviluppare una vera e propria paura per la povertà. Questo le porta ad aprire alcune attività in città. Mettono insieme un po' di soldi e aprono un saloon che, anche se non porta chissà quali guadagni, dà loro da mangiare. Col tempo le ragazze vogliono sempre di più. In questo periodo, Carmen incontra un uomo di nome Jesus Vargas, un po' più vecchio di lei, con la fama di essere uno dei playboy della città. Il suo soprannome è El Gato, ossia Il Gatto. A Carmen non importa della sua reputazione. La donna pensa di essersi innamorata ed è determinata a fare qualcosa per migliorare la sua vita. Pertanto, quando Jesus le propone di andare a vivere con lui, non esita. Nel 1938, Carmen lascia la casa di famiglia e va a vivere con Jesus. Per mantenersi, due aprono uno squalido saloon in città dove gestiscono un giro di prostituzione. Con questa casa chiusa travestita da normale saloon, ottengono un bel profitto. Ma nessuno è al corrente di quanti soldi hanno a disposizione. Questo perché Jesus spende fino all'ultimo centesimo che lui e Carmen riescono a guadagnare. Quindi alla fine l'attività fallisce, i due si lasciano e Carmen torna dalla sua famiglia. Delfina vive una situazione simile a quella di sua sorella Carmen. Ancora ragazzina incontra un uomo più anziano e pensa che sarà lui a salvarla dalla sua famiglia disfunzionale. Di conseguenza scappa con questa persona, facendo chiaramente infuriare suo padre. Isidro, che non vuole che la figlia disonori la famiglia, va a cercarla. E quando finalmente la trova, le infligge una severa punizione. La afferra per i capelli e la colpisce alla nuca con un oggetto contundente. Pensate che il pestaggio è così brutale che per poco Delfina non perde la vita. Poco dopo, i genitori delle sorelle muoiono, lasciando alle sorelle una piccola eredità. Nonostante Gesùs avesse dilapidato i guadagni, Carmen non perde tutto perché è riuscita a conservare del denaro per sé. Così, con i pochi soldi che ha da parte, apre un chiosco di vini e liquori. Delfina, però, non torna a casa. Ispirata dall'attività di Carmen, decide di riprendere in mano il saloon per trasformarlo in una casa chiusa. Delle quattro sorelle, Delfina è conosciuta come la più scaltra e la più crudele. Per mandare avanti la sua casa di piaceri, recluta ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni, usando tattiche ingannevoli. Avvicina le ragazzine e promette di trovare loro un posto di lavoro come domestiche. Il figlio di Delfina, Ramon Torres González, si occupa di tenere d'occhio le giovani e i clienti. Con il passare degli anni, la sua attività si evolve col traffico di esseri umani. Ora che Delfina ha trovato le ragazze da far prospettare, che lei chiama allieve oppure alunne, compra una casa ancora più grande per continuare con la sua attività. Il piano è quello di mandare per strada le sue allieve, col fine di attirare dei clienti che vadano a visitare la casa e a usufruire dei servizi a disposizione. Delle volte, la donna, con l'aiuto di un capitano scagnozzo dell'esercito, si limita a rapire le ragazze, che non vengono più viste. La maggior parte di queste giovani viene obbligata ad assumere sostanze molto pesanti, così che sviluppino una dipendenza e siano più compiacenti. Le vergini più graziose vengono tenute per i clienti con i portafogli più pieni, pronti a pagare un sacco di pesos per una ragazza illibata. Se una ragazza si ammala a causa della malnutrizione o di una malattia trasmissibile tramite rapporti, o con tre A e una infezione a causa di un aborto improvviso, viene rinchiusa in una stanza fino a morire di fame, oppure le altre ragazze vengono costrette a picchiarla con bastoni e pesanti tronchi fino a ucciderla. A questo punto è opportuno chiarire una cosa. C'è pochissimo controllo del governo su questi stabili e le relative attività, almeno in questo periodo. Quindi, alcuni dei migliori clienti di Delfina sono poliziotti locali, soldati e politici. Questa clientela le offre protezione poiché la donna fornisce alle autorità locali e ai leader politici alcol e rapporti intimi gratuiti con le sue allieve. D'accordo funziona bene per tutti, fino a una notte del 1948, quando scoppia una collutazione tra alcuni clienti che degenera in una sparatoria. Così, Delfina è obbligata a chiudere il suo locale. Dopo la chiusura dell'attività di Delfina, la donna decide di portare le sue allieve in viaggio. Va a delle fiere statali in cui allestisce una nuova casa chiusa. In ogni caso, le case chiuse sono ancora considerate illegali, almeno in quello stato. Delfina decide quindi di utilizzare due edifici che sono vicini tra di loro. Il primo edificio è un bar dove vende alcolici legalmente ai clienti, mentre il secondo è pieno di stanze per permettere alle sue allieve di accogliere i clienti in segreto. Per 14 giorni gode di un flusso costante di clienti che le comprano i liquori per poi spostarsi e concludere la serata con le sue allieve. Al termine della fiera, Delfina ha due grandi valigie, piene di soldi. La donna dunque prende i soldi e va a Guanajuato, capitale dell'omonimo stato del Messico, col fine di acquistare formalmente un'altra proprietà per fondare, ancora una volta, la sua casa chiusa. Con la nuova casa attiva e funzionante, chiede alle sorelle Carmen e Luisa di lavorare con lei. Luisa si occupa dei soldi della cassa, mentre Carmen si occupa della gestione della cucina. Delfina mette in pratica quello che ha imparato con la sua casa chiusa e a questo punto i suoi scambi con le autorità e le modalità per ottenere la protezione cambiano. Insomma, non basta farli bere gratis e neanche fare in modo che una delle allieve li intrattenga, o meglio. Va benissimo se continua a farlo. Le autorità di certo non si tirano indietro, così come i politici, ma ora deve pagare una vera e propria tangente. Delfina è molto astuta nel tenere in riga le sue allieve. È riuscito a trovare un modo che porta queste ragazze a essere in debito con lei. Le costringe ad acquistare da lei oggetti essenziali, prodotti di cui hanno necessariamente bisogno per l'igiene personale. Poi ci sono gli abiti, i gioielli e il trucco che le rendono più desiderabili. Dal momento che le allieve sono ragazze senza mezzi per pagare i beni di cui hanno bisogno e saldare il loro debito, lavorano nella casa chiusa. Delfina non sa né leggere né scrivere, così Carmen tiene un grosso quaderno con i nomi delle ragazze e le spese sostenute per i loro acquisti. La donna si assicura che le allieve continuino a lavorare per lei perché sono in debito, ma deve anche controllare che seguano le sue regole. Punisce le allieve disobbedienti adottando le medesime punizioni che suo padre infliggeva a lei. Intimidazione, reclusione, tortura e completa privazione della libertà. Maria de Jesus un giorno si reca a Guanajuato dove conosce una donna di nome Laura Larraga, una passeggiatrice locale che possiede una casa chiusa ben più prestigiosa di quella di Delfina. Maria rimane affascinata dal modo elegante con cui Laura gestisce i suoi affari, al punto che decide di acquistare la casa della donna. Per acquisire i permessi necessari per gestire legalmente la sua attività, Maria de Jesus si deve proseguire alle autorità locali. È necessario poi trovare un modo per proteggere gli affari. Paga mensilmente una tangente alle autorità locali per evitare problemi. Ad ogni pagamento puntuale Maria de Jesus ha la protezione di cui ha bisogno e i suoi affari prosperano. Maria de Jesus si rende presto conto che ha la possibilità di espandersi, quindi acquista il bar di un uomo omosessuale locale soprannominato El Pochiancis. Per questo motivo, nonostante la donna decida di chiamare la sua attività alla barca d'oro, la gente del posto continua a chiamarla El Pochiancis, che letteralmente vuol dire la puttana. Luisa è la più giovane delle quattro sorelle ed è incaricata di custodire i soldi della cassa della casa di Delfina. Nel giro di dieci anni risparmia la maggior parte dei soldi guadagnati e non fa mai ricorso alla prostituzione per avere ulteriori entrate. Quando Luisa smette di lavorare per Delfina, prende i 39.000 pesos che ha messo da parte e si stabilisce a Veracruz, dove conduce una vita dignitosa. Arriviamo al 1949, quando a Carmen viene diagnosticato un cancro che la stronca nel giro di quattro anni. Carmen muore nel 1954. Era lei a gestire i debiti dell'allieve di Delfina, perché ricordiamo la donna non sa né leggere né scrivere. Così quando la sorella viene a mancare, Delfina non è in grado di determinare quanto le ragazze siano in debito. In questo periodo la donna mostra pietà per le sue allieve. Dice loro che i debiti sarebbero stati cancellati a fatto che le ragazze pregassero per l'anima di Carmen. A questo punto Delfina chiude la sua attività e si unisce a Maria de Jesus, nel comune di San Francisco del Rincon, a 200 chilometri da città del Messico. Le sorelle per tutto questo tempo si sono mantenute fedeli all'etica religiosa con cui sono state cresciute dalla madre quando erano piccole. Considerando che il loro business si fonda sulla prostituzione, potremmo chiaramente pensare ad un conflitto tra ciò che fanno e le convinzioni religiose. Ma in realtà Delfina e Maria de Jesus hanno distorto gli insegnamenti ricevuti, pertanto non considerano la prostituzione un peccato. Però specifici atti intimi sono peccaminosi agli occhi di Delfina e Maria de Jesus. Per questo motivo non permettono alle loro alunne di dare baci, avere rapporti intimi da dietro, avere rapporti intimi in gruppo, avere rapporti intimi omosessuali davanti ai clienti. Le ragazze seguono le regole, almeno la maggior parte di loro. Ad un certo punto Maria de Jesus assume due prostitute americane molto esperte. La donna successivamente considererà questa scelta il suo più grande peccato e l'origine della sfortuna sua e delle sorelle. Quando queste due ragazze vengono accolte, i clienti trovano la loro bellezza esotica e le loro figure formose eccezionalmente piacevoli. Di conseguenza sono costantemente richieste. In un'occasione un cliente chiede i servizi di entrambe le donne. Le ragazze però commettono un errore e contravvengono a una delle regole. Eseguono atti intimi tra di loro davanti al cliente. Quando Maria de Jesus lo scopre, le licenzia immediatamente. In realtà sì, le licenzia e poi le uccide. E dopo l'incidente con le due americane, le sorelle iniziano a tenere d'occhio le allieve del loro servizio. Devono assicurarsi che nessuna di loro compia atti immorali o indecenti contro Dio. Per spiare le alunne mentre servono i clienti, Delfine e Maria de Jesus praticano dei buchi nelle pareti delle stanze. Se un'allieva viene sorpresa a compiere un'azione proibita, la sua punizione è di essere pubblicamente umiliata davanti alle altre e sottoposta a severe torre. La situazione però degenera. Arriva un momento in cui le sorelle scelgono ogni giorno un'allieva senza un apparente motivo, sottoponendola alle loro tremende punizioni. Le ragazze vengono prese a botte, bruciate con ferri roventi appoggiati sulla pelle e subiscono restrizioni alimentari. In breve gli viene dato pochissimo cibo. Se i clienti smettono di richiedere i servizi di una delle alunne, la ragazza in questione non viene semplicemente liberata. È portata in un ranch nelle vicinanze e picchiata brutalmente. Viene poi uccisa quando chi la sta punendo si stufa di picchiarla. Un altro metodo di umiliazione impiegato dalle sorelle consiste nell'obbligare l'alunna a inginocchiarsi per terra tenendo le braccia distese davanti a sé. A questo punto le vengono posti dei pesanti mattoni sulle mani e sulla testa. La ragazza è costretta a rimanere in quella posizione per ore senza far cadere i mattoni. Maria De Jesus chiede anche l'aiuto di due esecutori. Se una delle allieve si stanca di prostituirsi e cerca di scappare, i due esecutori sono incaricati di infliggere severe punizioni che spesso portano alla morte della vittima. Nel 1962 il governo di Guanajuato subisce dei cambiamenti. Di conseguenza la maggior parte dei funzionari delle forze dell'ordine e dei leader politici che proteggono le sorelle vengono rimossi dall'incarico. Nello stesso periodo viene approvata una legge che rende illegali le case chiuse. Chiunque venga sorpreso a prostituire si riceverà pesanti sanzioni. Questo cambiamento rende le case chiuse vulnerabili e costringe Maria De Jesus a chiudere. Poco dopo l'unico figlio di Delfina, Ramon Torres González, viene ucciso durante una rissa nella casa chiusa con un sergente di polizia. La sua morte ha un profondo impatto su tutte le sorelle, ma Delfina è ovviamente la più colpita perché ama suo figlio alla follia. Quando viene a sapere cosa gli è successo, afferra il fucile e si mette alla ricerca dell'uomo responsabile del suo omicidio. Dopo ore di ricerche febbrighi, Delfina comprende che l'unica cosa che deve fare è attendere che quel poliziotto torni nella casa chiusa perché era certa che ci sarebbe tornato. E infatti quando si presenta la donna dà inizio a una sparatoria e lo uccide. Per evitare di essere arrestata dalle autorità, fugge dalla città per nascondersi e Maria de Jesus viene lasciata da sola. Quindi chiude in fretta e furia l'attività che aveva con la sorella e non sapendo cos'altro fare, prende le alunne e le nasconde in un ranch di proprietà delle sorelle, poco distante a San Francisco del Rincon. Maria de Jesus quindi aspetta semplicemente il ritorno della sorella. Nel ranch rinchiude le ragazze in una stanza minacciandole di gravi conseguenze. se avessero fatto un rumore o avessero provato a scappare. La stanza in cui le ragazze devono rimanere giorno e notte tutte insieme è molto piccola e vi rimangono per sei mesi senza avere nulla o quasi nulla da bere o da mangiare. Come immaginerete moltissime muoiono di fame, altre muoiono per malattie venere non curate, altre invece impazziscono totalmente. Nel frattempo ovviamente Delfina ha raggiunto Maria de Jesus. Il suo amante, Hermenegildo Suniga, detto anche il capitano dell'Aquina Nera, è incaricato delle esecuzioni ordinate da Delfina. Un giorno decide di portare alle ragazze estremamente affamate delle noccioline da mangiare. Una delle ragazze, Flor, ha così tanta fame che ne mangia troppe tutte insieme. Quindi si ammala, il suo stomaco si gonfia. Pensando che Flor debba solo riposare, viene portata fuori dalla camera in cui è reclusa insieme a tutte le altre. Può finalmente riposarsi in un letto. Peccato che nel giro di un paio di giorni la ragazza muoia. Delfina libera le alunne e ordina loro di seppellirla. Nonostante tutti i loro sforzi, non riescono proprio a portare il corpo al piano di sotto. Quindi, per poter portare fuori il cadavere di Flor, lo lanciano da una finestra del secondo piano. È il 12 gennaio 1964, quando accade una cosa. Catalina Ortega, una delle allieve tenute prigioniere nel ranch, riesce a fuggire. Una volta uscita dalla proprietà, si mette in contatto con sua madre e insieme si recano alla polizia di Leon per sporgere denuncia. La ragazza è visibilmente scossa, spaventata e presenta chiari segni di abusi e malnutrizione. Racconta alle autorità tutto ciò che le sorelle González Valenzuela hanno fatto. L'ufficio del procuratore di Stato invia un gruppo di uomini al ranch per indagare sulle accuse della giovane. E per ironia della sorte, l'uomo incaricato delle indagini è un ex cliente della casa chiusa, il comandante Miguel Ángel Mota. Non appena lui e i suoi uomini arrivano al ranch dove trovano le sorelle ancora vestite di nero il lutto per la morte del figlio di Delfina, le donne vengono circondate. Mentre gli abitanti del villaggio si radunano appena fuori dalla tenuta chiedendo il loro linciaggio. Polizie e giornalisti trovano una dozzina di ragazze emaciate e sporche nel ranch chiuse in una stanza. Mentre continuano l'esplorazione, alcune delle ragazze indicano dei punti nel terreno e dicono loro che lì avrebbero trovato i corpi. Ma per il momento la polizia non indaga oltre, avranno tempo in seguito per perquisire a fondo quel ranch. Nel frattempo arrestano Delfina e Maria De Jesus e i loro complici. Delfina e Maria De Jesus vengono portate all'ufficio del procuratore di Stato dove vengono interrogate. Il comandante vuole capire il livello di coinvolgimento delle due donne nella tratta di esseri umani, nella protezione forzata e nell'omicidio di diverse ragazze. Ma non importa quali domande vengano rivolte a Delfina e a Maria De Jesus, loro negano di aver partecipato o di essere a conoscenza di attività illegali. Le autorità intanto riescono a ottenere l'autorizzazione a perquisire il ranch al San Francisco del Rincon. Ebbene, trovano 90 corpi sepolti intorno alla proprietà. Scoprono anche dei resti carbonizzati e numerosi fessi. In sorveglianza militare, le sorelle vengono portate in una prigione di San Francisco del Rincon. Ma dal momento che l'intera città vuole lincere le donne, un giudice le manda nella squallida prigione della città di Irapuato. Non ci vuole molto perché Luisa venga a sapere dell'arresto di Delfina e Maria de Jesus. Una settimana dopo Luisa si reca in una stazione di polizia di città del Messico e si costituisce, temendo di essere linciata. Crede di non poter essere toccata e un giudice in effetti le ha concesso l'immunità dalle accuse affrontate dalle sorelle. Tuttavia, al suo arrivo a Irapuato, anche lei viene arrestata perché è sospettata di praticare rituali satanici e stregoneria con i cadaveri. Le autorità giustificano l'arresto affermando di aver trovato pezzi di stoffa rossa e di erbe essiccate sui suoi vestiti. Durante il processo, decine di ex prostitute accusano le sorelle di violenza intima, omicidio e distorsione. Accusano Delfina, Luisa e Maria de Jesus di aver corrotto le autorità locali e statali che erano anche loro clienti abituali delle case chiuse. Il processo è caotico, condito da insulti e urla da parte delle sorelle e dei loro accusatori. Ma è breve. Un giudice condanna le tre sorelle a 40 anni di carcere. I media intanto affermano che l'unico crimine commesso dalle quattro sorelle è la tortura. La maggior parte delle atrocità di cui sono state accusate sono state compiute da uomini. Uomini che le sorelle hanno assunto come custodi e guardie del corpo e per le case chiuse e teppisti a soldati in tutta la città. L'unica eccezione è il modo in cui le donne sono state acquisite attraverso il traffico di esseri umani. Andando avanti la stampa aggiungerà che probabilmente le sorelle praticavano dei rituali satanici sacrificando degli animali. Arriviamo al 1992 quando Maria De Jesus decide di rilasciare un'intervista alla giornalista Elisa Robledo. Durante quella conversazione è sincera quando fornisce i dettagli degli atti compiuti da lei, dalle sue sorelle e dai loro complici. chiarisce che nessuna di loro praticava rituali satanici come sosteneva la stampa. Non hanno mai sacrificato nessun animale. Ogni azione intrapresa da Maria e dai suoi dipendenti durante la gestione delle case chiuse anche se di natura brutale è stata commessa con un solo scopo in mente proteggere l'attività. I trattamenti che le loro prigioniere hanno dovuto subire sono stati atroci. Non praticavano il satanismo ma ciò non significa che le azioni delle sorelle fossero nella norma. Le ragazze imprigionate sono state torturate duramente e molte sono state uccise. I rapporti indicano che tutte le ragazze potevano mangiare in un giorno 5 tortillas alcuni fagioli e acqua. È ovvio che non mangiavano abbastanza e quindi erano denutrite. Alcune allieve inoltre nel corso dei mesi erano rimaste incinte e sono state fatte abortire chiaramente illegalmente. Nelle rare occasioni in cui un'allieva portava a termine la gravidanza il bambino veniva portato via e quindi ucciso. E se una delle ragazze fosse morta a causa di un aborto sarebbe stata seppellita come tutte le altre. In ogni caso l'intervista fatta da Elisa Robledo a Maria la porta a scrivere un libro sul caso un resoconto cronologico degli avvenimenti frutto dell'indagine dettagliata che la giornalista ha condotto con un avvocato di nome Samuel Cruz. Durante le indagini Elisa e Samuel scoprano diverse irregolarità soprattutto per quanto riguarda il processo contro le sorelle e le modalità di condanna. E dopo che il libro di Elisa viene pubblicato e le irregolarità rese pubbliche i tribunali chiedono l'immediata scarcerazione di tutte le persone coinvolte nel caso uno degli uomini che ha partecipato ai crimini il capitano Aguilla ha 76 anni quando gli viene comunicato che sarebbe stato rilasciato immediatamente è così sopraffatto dalle emozioni che ha un attacco di cuore e muore sul colpo inoltre quando arriva la notizia è già troppo tardi per due delle tre sorelle Delfina la sorella più forte la più coraggiosa di tutte non si rivela così coraggiosa quando viene mandata in prigione ha paura di essere uccisa è perennemente terrorizzata e col tempo impazzisce Delfina urla urla e vasta il 17 ottobre 1978 mentre alcuni operai edili si trovano sopra la sua cella si verifica un terribile incidente uno degli uomini urta il contenitore pieno di cemento che le cade in testa e la uccide all'istante per quanto riguarda Luisa nel 1984 le viene diagnosticato un cancro e muore da sola nella sua cella considerate che i funzionari della prigione non la trovano fino al giorno successivo quando i topi hanno già iniziato a banchettare con i suoi resti Maria de Jesus sembra essere l'unica che ha avuto un lieto fine quando viene mandata in prigione Maria de Jesus si aggrappa con tutte le forze alle sue convinzioni religiose per sopravvivere e ha anche la fortuna di innamorarsi incontra Antonio Hernandez un uomo di 64 anni anche egli incarcerato all'epoca non appena vengono entrambi rilasciati dal carcere si trasferiscono fanno perdere le loro tracce e vivono il resto della loro vita nascosti i rapporti indicano che hanno avuto una vita tranquilla e hanno vissuto fino alla metà degli anni 90 la maggior parte delle donne sopravvissute definite alunne vengono trasferite negli Stati Uniti ahimè alcune scelgono di rimanere nel giro della prostituzione perché non sanno che altro fare nel 2002 dei lavoratori trovano lungo la strada del ranch delle Gonzales Valenzuela i resti di circa 20 scheletri in una fossa le autorità affermano che le vittime sono state probabilmente sepolte lì negli anni 50 o 60 dalle sorelle e se questo è vero il numero di omicidi commesso dalle sorelle e dai loro complici aumenta arrivando oltre le 110 persone il caso delle sorelle Gonzales Valenzuela ha lasciato uno scuro segno nella storia messicana mentre scavo nei casi per trovare informazioni spesso mi chiedo cosa spinga le persone a vivere una vita come questa qual è stato secondo voi il catalizzatore che le ha portate a commettere tutti questi omicidi se le sorelle non avessero avuto un padre così autoritario e violento sarebbero mai andate con uomini che poi si sono approfittati di loro sarebbero mai rimaste affascinate dall'industria della prostituzione avrebbero trovato un modo migliore per fare soldi e dunque per sopravvivere so benissimo che queste sono domande per le quali non avremo mai risposte tuttavia sono curiosa di sapere quali siano le vostre opinioni detto questo ho finito di parlare in questo video e spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi interessante fatemi sapere se conoscevate questo caso che è molto molto vecchio e sono davvero curiosissima di sapere che cosa ne pensate quindi ci vediamo qui sotto nei commenti assolutamente io nel frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti